Gabriele e suo fratello Gianfranco e il stylist originale di Teglio hanno vissuto un sogno d'occhi aperti dopo il Festival di Cannes e quello di Venezia per loro un nuovo impegno professionale ai massimi livelli, l'alta moda di Parigi. Le modelle che hanno sfilato nel cuore della Ville Lumière erano nelle loro mani. Dalla Valtellina a Parigi e ritorno per un sogno ad occhi aperti. Sì, questo è proprio stato un sogno ad occhi aperti, un sogno che era nel cassetto e finalmente si è realizzato. Qualcosa di meraviglioso, abbiamo passato delle giornate veramente intense, lavorato parecchio con grande soddisfazione. Un'emozione molto particolare, la verità è che l'ambiente è un ambiente importante ma anche non solo per quello che rappresenta la lute couture, quindi l'alta moda di Parigi, ma proprio sul rapporto delle persone. Ci siamo accorti che nel backstage siamo stati particolarmente apprezzati come persone ma anche proprio nel rispetto più totale della professionalità di ognuno di noi. Si lavora con un livello veramente importante, esperienza meravigliosa. Vestiti da migliaia di euro quelli che indossavano le modelle preparate da Gabriella e Gianfranco, teatro delle sfilate, i palazzi storici di Parigi. Eravamo nel cuore di Parigi, abbiamo sviluppato un lavoro di tre giornate, due delle sfilate, sono tra le cinque sfilate più importanti del mondo. Pensa che il secondo giorno abbiamo fatto tutto il backstage dentro un caveau dove venivano depositati questi diamanti in questa piazza famosa di Parigi e la sfilata veniva svolta proprio all'interno di questi palazzi giganteschi, meravigliosi. Addirittura per sviluppare l'acconciatura bisognava lavorare in due. Alta precisione, non poteva assolutamente esserci un cappello fuori posto, come dire, la perfezione. La seconda giornata lo stilista ha voluto come accessorio mettere dei fiori freschi. L'unica donna. L'unica donna, sì, ero troppo felice. In realtà quando ci hanno convocato da L'Oreal pensavo che ci fossero anche altre donne. E poi niente, arrivata lì ero l'unica donna. Comunque è andata bene, troppo contenta. Riavvolgendo il nastro, Gabri, tornando ai vostri inizi, da Teglio, avete aperto i vostri saloni, Parigi, potevi immaginarlo? Guarda, ti devo dire la verità, era un sogno in un cassetto. Il Festival del Cima di Venezia, Cana, abbiamo fatto un sacco di Fashion Week. Adesso dal 19 al 23 saremo ancora presenti su Milano. L'arrivare qui probabilmente non l'abbiamo pensato, ma nel cuore ce l'avevamo. E non è mancata la sorpresa durante una breve pausa caffè nel cuore di Parigi. Siamo andati per un caffè, abbiamo chiesto questo caffè in francese e questa ragazza ci ha risposto in italiano. E quando ci siamo informati di dove fosse, lei era di Sondrio, quindi abbiamo trovato non solo una connazionale, ma pure una che abita nella stessa città nostra.